Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video, questo è Barry al 25, stiamo facendo una bella run, siamo live cose incredibili, vi ricordo like e iscrizione, per favore pandi, pandi! Mi raccomando il codice player di sempre e comunque, ragazzi, nel mente la mappa è cambiata rispetto al video che avete visto che vi lascio nelle schede, però più o meno, insomma, il funzionamento di Barry sempre quello è. Il campetto in colto non è male in realtà per i trover, c'è questa Lily che non sa che noi la vediamo, adesso non la vediamo più. Gadget e star power stiamo usando sempre i soliti, non l'abbiamo cambiato, perciò non ci sono grandi aggiornamenti, abbiamo sempre primo primo, se non sbaglio. Ho cambiato giusto il gear, ho tolto la speed per tenere danno, per massimizzare i danni, perché tanto ci sono tutti i brawler belli grossi e la visione, per dare una mano ai miei compagni, però come vedete è primo primo, i brawler sono abbastanza pesantucci. Allora, ma il Frank spin e si gode, anche il Surge spin spin, spinnano tutti, però sparano tutti. Ok, vabbè ragazzi, a noi le partite regalate ci piacciono, si gode. Fa tutto parte, fa tutto parte. Vi faccio vedere anche un emote incredibile, guardate questo cavallo come se la ride. Ok, grazie ragazzi, ovviamente non dovete, ma se lo fate io vi ringrazio assolutamente. 700, ok, e si va. 750 poi vi faccio vedere la classifica, dovremmo essere comunque, rimanendo umili nei primi 10, ma tanto poi insomma la differenza si fa quando si arriva a 800, 850, insomma, di magari qualche difficoltà si comincia anche ad incontrare. Ma c'è ancora tempo. Ok, il gol è fatto, nice. No, ci ha stonato tutti. Ok. 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 Mi ha preso al volo. No. E questo ha fatto presto Diciamo che era difficile missarmi Io ho provato ad essere fuori range Ma con l'hypercharge insomma E alla fine gira che ti rigira Mi ha preso davvero Mannaggia il cacchio Ok e si gode Bell'attacco Ovviamente ragazzi Frank Nemmeno ve lo devo dire Vedrete poi dei video sul canale E' veramente forte Ma penso si sia visto no? Ok abbiamo un altro thrower Un altro Frank Più o meno le comp sempre quelle sono Ok Oddio No vabbè ma Guarda dove si è messo Ok 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 E' il primo andato No Mannaggia Eh vabbè Sto Frank è riuscito a fare tutto A godo L'ho portato via con me In questa notte fantastica Il Frank ce l'ha come ma non muoio E invece si Ah Però intanto Se spara a Barry e basta Ci sono gli altri due Ok 7 e 21 Siamo anche a 80 di Winstreet ragazzi È il nostro nuovo record Ero a 75 Questa è giustamente la mega colette Per dare fastidio ai 2 milioni di Frank Ok Bellissimo Bissing Ok E là E si code 30 secondi precisi Spaccati eh Godo Iscrizione Codici player d Un commentino anche se l'avete shoppato Scrivetemi tutto quello che vi pare No ma dai Ma porca vacca C'è Frank dentro con la ulti Nel mid C'è la bestia lì Con l'hypercharge Ok Uno l'abbiamo rifatto Ci abbiamo l'hypercharge Ok Bellissimo Brawler Ragazzi Bilanciatissimo Oserei dire Ok Perfetto 750 direi con stile Si gode E ve ne faccio vedere qualcuna extra Abbiamo trovato Chester Punk Non riesco Ad arrivare Ok Il tempismo C'è sempre Bello Mamma mia 29 secondi Come si insinua Pandi Non si insinua Nessuno Io direi che a questo punto Ci facciamo l'ultima Così poi vi faccio vedere La classifica Allora Cordelius Willow Va bene Attenzione il Cordelius Che è rimasto Un attimo lì A pensare Al senso della vita Stenga pandi Ok Perfetto Allora Ragazzi E' arrivato il momento Della classifica 780 Al volo Perché lo sapete Sti video purtroppo Sono fatti tutti Molto molto di fretta Siamo sempre quinti al mondo E qua Sono già a 900 Pesano Messo il turbo Like iscrizione Codici per D E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao